Gentili telespettatori, buona giornata. Dal 1 gennaio a ieri gli sbarchi sono stati quasi 13.000, più che gli sbarchi le persone sbarcate, 13.000 migranti clandestini, illegali, a fronte di 4.700 dello stesso periodo dell'anno scorso. Quindi gli sbarchi sono letteralmente triplicati secondo i dati del Ministero dell'Interno. L'anno scorso in totale sono stati 105.000, quindi le proiezioni parlano di 315.000, record di tutti, un record che batterebbe tutti i record precedenti. Bel tempo, mare calmo, partono sempre di più. Le ONG vanno avanti a gonfie vele o a tutta forza coi motori. E Giorgia Meloni, mentre riceve il primo ministro polacco, chiede all'Europa di difendere i suoi confini esterni. E c'è stata qualche risposta dall'Europa? No. Commenti? No. Interessa a qualcuno che la Meloni abbia chiesto di difendere i confini esterni? No. Non è interessato a nessuno. Anzi, ci sono stati come Francia e Germania che finanziano addirittura anche le ONG. Pertanto gli sbarchi a Lampedusa sono arrivati a le persone oltre 3.000 a fronte di 350 posti. Sbarchi non solo in Sicilia ma anche in Sardegna, 16 persone trovate sulla strada statale provinciale 71, ma nessun natante, nessuna imbarcazione. Dal 1 gennaio ad oggi, come dicevamo, sbarchi triplicati. Le persone arrivano principalmente dalla costa d'Avorio, poi dal Pakistan, dalla Guinea, dalla Tunisia, dall'Egitto, dalla Siria, dall'Afghanistan, dal Bangladesh, dall'Eritrea, dal Camerun. Ecco, la Meloni dice che la discussione sulla gestione dei migranti deve essere sulla dimensione esterna dei confini europei. Inutile discutere dei movimenti secondari se a monte non discutiamo dei movimenti primari degli immigrati illegali. non possiamo consentire che la selezione di ingressi in Europa venga fatta da bande di trafficanti. Però qui siamo allo stesso punto del governo Conte 2, del governo Draghi 1, quindi sia Conte che Draghi che Meloni sono andati tutti e tre in Europa a dire la stessa cosa, non possiamo essere solo noi, deve essere l'Europa, patti, accordi di qua. Ma alla fine Conte aveva risolto qualcosa? Assolutamente nulla. Draghi aveva risolto qualcosa? Assolutamente nulla. La Meloni sta risolvendo qualcosa? Assolutamente nulla. C'è la promessa. Abbiamo parlato con la Libia per fermare le partenze, cioè sarebbe il blocco navale. I libici li stiamo aspettando a Roma perché poi ci mettiamo d'accordo, facciamo degli accordi, vediamo come fare, gli stiamo dando delle motovedette. Però alla fine un vero è proprio accordo tra Italia e Libia, sottoscritto per fare un accordo di blocco navale, perché il blocco navale, chiamato anche accordo tra i paesi di partenza e i paesi di arrivo, non è mai stato fatto. Non c'è siglato un accordo. Naturalmente per quell'accordo provocherebbe reazioni in Italia della sinistra, reazioni in Europa e la Meloni non vuole né le reazioni della sinistra in Italia né quelle in Europa. E allora è tutto fermo, perché intanto per fare un accordo di questo tipo c'è bisogno di andare lì con dei soldi e dire vi diamo questi soldi, fermate le partenze. Senza andare lì a dire vi diamo i soldi, fermate le partenze, le partenze ovviamente non vengono fermate, ma vengono facilitate per prendere loro i soldi, le autorità locali, dai trafficanti. Pertanto di blocco navale la Meloni è andata in Libia, le basi per un blocco navale, ma dopo non si è saputo più nulla. Poi magari fra qualche giorno la Meloni ci stupisce con effetti speciali e c'è questo famoso blocco navale firmato fino a questo momento al 20 di febbraio parliamo di un record degli sbarchi triplicati rispetto all'anno scorso. Salvini cosa dice? Assolutamente nulla. La Meloni dice l'Europa deve difendere i confini dell'Unione Europea, ma l'Europa non ha neanche risposto, non ha neanche ascoltato. E allora cosa ci rimane da fare? Se la Meloni insiste aspettando l'Europa è difficile che l'Europa faccia un blocco navale, difficile che l'Europa faccia un fondo per dare i soldi al Nord Africa per trenere lì le persone e farle lavorare lì. Quello di costruire fabbriche nel Nord Africa e far sì che le persone trovino il loro futuro lì è di quelle cose che si possono dire che magari ci vogliono cento anni per realizzarsi e forse non si realizzeranno mai. Ma nell'immediato cosa puoi fare? L'unica cosa, come diceva la Meloni in campagna elettorale, che davvero è l'unica cosa che si può fare, è proprio quel famoso blocco navale, che lei oggi non ne parla più. Quindi c'è una pre-campagna elettorale, pre-elezioni con fermeremo gli sbarchi con il blocco navale subito e va al governo la Meloni e il blocco navale subito, del blocco navale subito realmente non si è saputo più niente. La Meloni non ha mai detto lo sto facendo, mi sto mettendo d'accordo, tempo un mese lo faccio, dopo lo faccio, domani, fra 15 giorni, proprio non se n'è mai più, mai più parlato. E se un blocco navale l'immigrazione clandestina non la ferma un governo di pura destra, possiamo metterci tranquilli e in pace che ormai ci possiamo rassegnare a chiunque parta, arrivi in Italia, porte aperte. Bene, questa è la realtà. Meloni invoca la difesa dei confini dell'Unione Europea. La risposta dell'Europa è nulla. Non c'è stata neanche una risposta. Arrivederci a tutti e grazie.